Lo stato di salute del turismo italiano è certamente positivo, lo ha detto il ministro Garavaglia intervenendo in collegamento streaming ad un convegno organizzato nel Grand Hotel Terme di Margherita di Savoia sulle prospettive del termalismo pugliese. Sentiamo. Il termalismo pugliese può ampliare l'offerta turistica pugliese rendendola sempre più variegata e competitiva, ma è bisogno di essere sostenuto a livello internazionale per farsi conoscere e scegliere dai turisti. È stato questo il punto centrale di una due giorni organizzata a Margherita di Savoia, alla presenza di una vetrina di giornalisti arrivati da tutto il mondo e con un convegno che ha visto l'intervento dei vertici delle principali agenzie italiane, a cominciare da Enit, ICE e Feder Terme. Sulla parte termale ovviamente c'è questa comunione tra turismo e salute che rende questo tipo di turismo particolarmente interessante in questo post-covid. Abbiamo infatti qui a Margherita di Savoia proprio un progetto post-covid che già dall'anno scorso funziona ed è molto piaciuto, ma ci sono potenzialità infinite e l'idea è quella di far conoscere questo territorio, queste terme, anche a chi è lontano da noi. Ampia disponibilità a venire incontro alle esigenze del termalismo pugliese da parte delle agenzie Enit e ICE. Noi dobbiamo guardare quello che è un rilancio del nostro turismo e non soltanto del turismo classico, quindi il turismo balneare, del turismo montano, del turismo delle città, ma pensare che anche proprio per le ragioni che abbiamo vissuto tutti insieme, ci rendiamo conto che il benessere, quindi il cercare quelle che sono delle emozioni, quelle che sono delle esperienze, è un'esperienza anche con il termalismo, un termalismo che qui in Puglia ha un'offerta che può soddisfare le esigenze e le aspettative di turisti non soltanto italiani ma provenienti da ogni parte del mondo. Oggi in questa bellissima realtà di Margherita di Savoia abbiamo questa opportunità di far conoscere al mondo, anche abbiamo portato noi come ICE 15 delegati che vengono da 7-8 paesi, quindi abbiamo un interesse notevole a far conoscere maggiormente queste zone che ancora sono poco esplorate dal punto di vista internazionale. Lo stato di salute del turismo italiano è stato al centro dell'intervento del ministro Massimo Caravaglia. Il ministro ha spiegato che abbiamo enormi spazi di recupero sulle presenze e che ci stiamo orientando proprio per cercare di recuperare i dati del 2019. È un obiettivo chiaramente molto ambizioso. Se noi guardiamo i dati di recupero rispetto all'anno scorso sono eccezionali, ma non hanno significato, perché dobbiamo darci come riferimento il 2019, che è stato l'anno migliore per il turismo italiano e per la storia del turismo italiano. L'estate 2022 è comunque contrassegnata dall'ottimismo. I dati sono fortunatamente positivi, perché abbiamo per la prima volta tassi di riempimento degli hotel superiori a Spagna e Francia, cosa che non abbiamo mai visto negli ultimi anni, ha sottolineato Caravaglia, evidenziando che avere un tasso di riempimento a maggio e giugno superiore alla Spagna, che è il principale nostro riferimento, e poi alla Francia, vuol dire che le cose stanno andando bene.